Salve ragazzi, soffermiamoci un attimo sulla contrazione e sulle sue regole. In particolare, in questo momento facciamo attenzione ai sostantivi di prima e seconda delinazione. La contrazione è un fenomeno fonetico che intercorre quando due vocali aspre si incontrano. La vocale aspra precedente è quella che appartiene alla radice e quella successiva invece è quella che appartiene alla terminazione. La cosiddetta vocale tematica. Se vogliamo schematizzare, sono possibili tre casi. Un caso in cui si incontrano vocali aspre di suono uguale, due alfa, due eta, oppure due omicron, due omega, o un epsilon con un eta, una iota con una iota. In quel caso, la contrazione produce la lunga corrispondente. Soltanto nel caso dell'incontro di due epsilon e di due omicron, si è del caso che venga fuori un dittongo, che è un suono stretto e lungo. Nel caso dell'incontro di due epsilon, avremo epsilon iota. Nel caso dell'incontro di due omicron, avremo omicron iupsilon. Potrebbero anche incontrarsi vocali aspre affini, alfa, epsilon, alfa ed eta, epsilon ed alfa. In quel caso, prevale il suono che precede. Nel caso in cui si incontrino epsilon più alfa, il suono che ne deriva è un eta, perché comunque il suono è lo stesso dell'epsilon, ma deve essere lungo, proprio perché, appunto, è esito di un incontro. Oppure possono incontrarsi anche vocali aspre di suono diverso. In quel caso, prevale il suono oscuro sul suono chiaro. Quando si incontrano epsilon e omicron, o omicron e epsilon, in entrambi gli ordini, l'esito è il dittongo omicron iupsilon. Andiamo però a vedere, più precisamente, come si applicano queste regole ai sostantivi della prima declinazione. In particolare, partiamo dai nomi femminili e vediamo il caso dell'incontro di vocali aspre di suono uguale. Quindi, una radice che finisce in alfa, quando si incontra con le desinenze, come si comporta? Allora, potete notare che non ci sono particolari differenze nelle desinenze del singolare. L'unica differenza riguarda l'accentazione. Infatti, nel caso della parola che abbiamo scelto, mna, che significa mina, noi vediamo che tutte le parole sono perispomene, accentate con accento circonflesso, perché originariamente l'accento era sulla vocale radicale, mna-a. Quando, quindi, i due vocali si contraggono, se l'accento è sulla prima vocale, l'accento risultante sarà un accento circonflesso. Diversamente, se ad essere accentata è la seconda delle due vocali, l'accento sarà acuto. Se nessuna delle due vocali è accentata, prima che avvenga la contrazione, chiaramente non sarà su quella posizione l'accento, ma rimarrà sulla sillaba precedente. L'unica, diciamo, situazione degna d'attenzione nella declinazione di questo sostantivo è il genitivo plurale, in cui l'incontro non è alfa più alfa, ma è alfa più omega. In quel caso prevale il suono scuro, omega. Quindi la desinenza sarà mnon. Per il resto, diciamo, c'è una perfetta corrispondenza, se non per quella differenza relativa all'accento di cui parlavo prima. Leggiamo questa declinazione del sostantivo Passiamo invece a un sostantivo femminile che ha il tema in epsilon. Questo è il caso dell'incontro di vocali aspre affini. Quindi noi vediamo prevalere il suono e, però nella variante lunga, eta, al singolare. Quindi si presentano le stesse desinenze che noi vediamo in un nome in alfa in puro lungo, però con l'accento circonflesso, così come abbiamo detto prima. Nel caso del duale e del plurale, invece, l'esito non è quello previsto, quello che abbiamo già detto prima, ma per analogia con i nomi in alfa, avremo come esito dell'incontro epsilon-alfa, alfa. Quindi il duale sarà siucai-sukain e il plurale siucai-sukon, siucais-sukas-sukai. Per quanto riguarda i nomi maschili, vediamo la stessa identica cosa nel caso del sostantivo Hermes, che è un sostantivo maschile, al singolare, al plurale, invece, diventa un femminile e indica le statue che si trovavano ai trivi, ai crocicchi e agli incroci delle strade che avevano come parte culminante la testa del dio Hermes, che era il dio, diciamo, dei viaggi e dei commerci. Quindi, al singolare, vediamo le stesse desinenze di un sostantivo in alfa impuro, lungo, quindi Hermes, Ermu, Hermes, Hermen, Hermes, con accento circonflesso, chiaramente, perché era accentata la vocale radicale. Nel plurale, vediamo l'esito analogico rispetto ai nomi in alfa e quindi l'incontro epsilon-alfa dà come esito alfa anziché età come avviene nel singolare. Per cui il duale sarà Herma-ermain e il plurale Hermai-ermon-ermais-ermas-ermai. Vediamo insieme una frase in cui troviamo un sostantivo contratto e vediamo come comportarci. Per esempio questa. Aimnai, kaiai-dragmai, ukaei, didoasin, ten eudaimonian. Alleniote, kai-merimnas. Parto sempre dal verbo nell'analisi di doasin, terza persona plurale, del verbo in mi con raddoppiamento didomi. Soggetto plurale. Vado a cercarlo e vedo due articoli plurali, femminili, ai e ai, e due sostantivi, mnai e drachmai. Chiaramente mi rendo conto che la desinenza di questi sostantivi è una desinenza di nominativo plurale e che nel primo caso ha un sostantivo contratto perché l'accento è circonflesso. I sostantivi ossidoni regolari in cui non c'è contrazione hanno l'accento circonflesso soltanto nel genitivo e nel dativo. Questo nome invece è perispomeno anche al nominativo, quindi è ovviamente un sostantivo contratto. Ai-dragmai è l'altro soggetto, uka è una negazione, aei è un avverbio di tempo, ten eudaimonian è l'oggetto del verbo transitivo di doasin, alla è una congiunzione avversativa, eniote è un avverbio di tempo, il cai ha valore intensivo e merimnas è un accusativo plurale. Anche se non ho l'articolo, lo desumo dal fatto che questa frase è simmetrica alla precedente e manca il complemento oggetto. Ai-mnai è l'emine, cai ai-dragmai e le-dragme, uka èi, non sempre, di doasin danno, ten eudaimonian la felicità, alla ma, eniote avvolte, cai anche, merimnas preoccupazioni. Facciamo un altro esempio. Omeros, tonermen argeifonten, ten de atenan, tritogeneian prosagoreui. Prosagoreui è il verbo, si tratta di un verbo in omega, terza persona singolare, il soggetto è omeros e il complemento oggetto invece è tonermen. Abbiamo un doppio accusativo, argeifonten, che è predicativo dell'oggetto. Poi abbiamo un altro accusativo, ten atenan, con l'articolo, e un altro predicativo dell'oggetto, tritogeneian, in posizione predicativa per l'appunto. Omero chiama Hermes, argifonte, atena invece, tritogeneia. Ragazzi, vediamo adesso i sostantivi di seconda declinazione, maschili e femminili. Solitamente la vocale radicale è una omicron. Questa omicron incontra le desinenze di seconda declinazione che sono per lo più in omicron o in epsilon, ma anche in ditongo omicroni y, vocale lunga omega, ditongo omicroni ota. Allora, in base a quello che ci siamo detti prima, possiamo tranquillamente valutare. L'incontro tra due omicron produce un ditongo, omicroni y. Stessa cosa vale per l'incontro tra omicron ed epsilon. Nel caso in cui omicron incontri omega, il sonno scuro prevale e quindi l'esito sarà omega. Nel caso in cui omega incontri la desinenza omicroni ota, cosa che avviene nel nominativo e nel vocativo plurale, nel dativo plurale, l'esito sarà omicroni ota. L'incontro tra omicron e il ditongo omicroni y produce un ditongo omicroni y e questo succede nel genitivo singolare e nell'accusativo plurale. Quindi, la delineazione sarà nus, nu, no, nun, nu, nonoin, noinon, nois, nus, noi. Nel caso dei nomineutri vediamo invece un esempio con di sostantivo che abbia la radice terminante in epsilon. I casi che si verificano sono quello di un incontro tra epsilon ed omicron che dà come esito omicroni opsilon e quello dell'incontro con omega in cui prevale il suono oscuro e quindi omega e questo, diciamo, si verifica nel dativo singolare, nel nominativo accusativo vocativo duale e nel genitivo plurale. Il caso di un incontro tra epsilon e omicroniota in cui abbiamo l'esito omicroniota analogico rispetto ai sostantivi maschili e femminili. Al plurale vediamo un incontro tra epsilon ed alfa e questo incontro epsilon alfa secondo la regola generale della contrazione dovrebbe dare come esito eta ma siccome la caratteristica dei nomineutri è proprio la desinenza alfa diciamo permane proprio alfa come vocale quindi volendo leggere troviamo ostun ostu ostun 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 ostoin ostà oston ostois ostà ostà tutti i sostantivi che abbiamo visto sono sostantivi che avevano l'accento sulla vocale radicale e quindi sostantivi con accento circonflesso sostantivi per i spomeni ragazzi vediamo adesso la traduzione di alcune frasi in cui ci siano sostantivi con tratti appartenenti alla seconda declinazione vediamo per prima questa oinautai ferusità eiston plun epitedeia cai eisballuntai qui abbiamo due verbi feron ferusi terza persona plurale dell'indicativo presente attivo del verbo ferro e poi eisballontai che è una forma media del verbo eisballo il soggetto di entrambi i verbi è oinautai l'unico nominativo che ho nella frase dopodiché ho un accusativo ta epitedeia è per il primo verbo quindi verbo transitivo verbo ferro ha come suo comprenamento ta epitedeia il verbo esballontai invece è medio ed è autonomo non possiede nessun complemento il ta epitedeia racchiude sotto il ponte eis toplun eistonplun che è un complemento di fine o scopo eis più accusativo e il sostantivo plun è chiaramente un sostantivo contratto l'articolo ton mi aiuta a capire che si tratta di un accusativo comunque anche se non avessi avuto l'articolo avrei dovuto considerare la desinenza e il fatto che la contrazione sia una omicron y che solitamente è l'esito di un incontro tra omicron e omicron o potrebbe anche essere l'esito di un incontro tra epsilon e omicron quindi quello comunque è un accusativo tra l'altro eis regge soltanto il caso accusativo quindi è facile capirlo o inautai i marinai ferusi trasportano ta epitedia le cose necessarie eis ton plun alla navigazione cai eis ballontai e salpano andiamo a vedere un'altra frase per esempio la questa ecco i verbi i verbi sono ferusin di nuovo e il soggetto l'unico nominativo plurale che ho nella frase i contadini ferusin è il verbo portare o trasportare portano l'accusativo è tas o poras che sono i frutti tonagron dei campi en canois en è una congiunzione che regge il dativo canois è chiaramente la desinenza di un dativo ma è la desinenza di un dativo di un nome contratto in questo caso io potrei ecco avere dei dubbi si tratta di un sostantivo contratto oppure si tratta di un semplice sostantivo ossidono che nel dativo ha l'accento circonflesso e devo cercare sul dizionario quindi provo a cercare un sostantivo ossidono canos e non lo trovo e a quel punto cerco la forma neutra canon e non la trovo e allora dovrò pensare che si tratti di un sostantivo contratto e cercare quindi la desinenza più giusta cioè una desinenza che sia anch'essa contratta al nominativo in questo caso il sostantivo è neutro ed è canun to canun prostombo mon è un complemento di moto al luogo il proteinusin è il verbo che regge tois teois che è un dativo plurale teos teu è un sostantivo non contratto quindi i contadini portano i frutti dei campi nei canestri e in canois prostombo mon verso il tempio cai e proteinusin offrono i frutti sottinteso tois teois agli dei e